Cosa vuoi decidere? Contro di me frate non puoi sopravvivere E la voce è così brutta che se urli in una grotta l'eco non risponde, si mette a ridere Perciò mi sarebbe che mi batte questo stronzo, non esiste I3 è così forte e dominante perché Antonio è così verginello, solo è triste Non hai capito che sei soltanto un deficiente La tua voce è più assente di un padre che dice vado a comprare le sigarette